Io volevo chiederti, sei partito molto molto bene, poi nell'ultimo mese hai fatto forse un pochino più fatica. Come valuti questo momento tuo attuale e se ci sono delle difficoltà? E poi se è possibile una curiosità, a fine partita dopo il Milan Mancini ci ha detto che il rigore dato su Ibrahimović in Premier sarebbe stato considerato quasi ridicolo. Insomma si sarebbero messi a ridere, tu che vieni dalla Premier la pensi così? Tami, hai fatto un buon start per la season, ma in ultimo mese hai sfruttato un pochino. C'è un pochino? C'è un pochino? E per il Milan, dopo il gioco Mancini ha detto che... Chi era Mancini? Il nostro Mancini? Mancini da dietro, Ibanez to Ibrahimović. Ah, riguardando la penalti di Ibanez, Mancini ha detto che in Premier League sarebbe una penalti ridiculosa per il mondo. Qual è la tua opinione su questo, da sei venuto dalla Premier League? I credo che in football hai vedoER le tue 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 le tue. through bad times and for me someone of my stature someone of my caliber and you know a lot of the leaders in the team you know this is the best time for us to to show our quality to show our leadership and to help the team as much as possible of course you know everybody wants to have the best season and win every game but you know you have bad times and this is one of them and you know it's about how we overcome this and for the decision on the pitch about the penalty you know things happen in football the referees are under so much pressure in games and you know they're human there's human errors but you know it's not my decision to to say of course you know as as a romo player and as a romo fan of course i don't want these decisions going against us but you know these things happen ma nel calcio capita di avere alti e bassi momenti buoni momenti peggiori ma proprio nei momenti peggiori che si impara di più di se stessi e della propria squadra per quanto riguarda me un giocatore del mio calibro inserito in un contesto di squadra con tanti leader beh questo è il momento migliore per dimostrare la leadership e cercare di aiutare la squadra è chiaro che ognuno vorrebbe giocare la stagione perfetta tutti vorrebbero vincere tutte le partite ma capita di attraversare momenti difficili e questo è il momento di di superarlo per quanto riguarda il la decisione arbitrale dell'ultima partita mi limito a dire che gli arbitri sono sotto una pressione enorme che commettere degli errori è umano è evidente che in quanto parte in causa il calciatore della roma non vorrei che decisioni sbagliate venissero prese contro di noi ma capita buongiorno volevo chiederti come stai fisicamente dopo l'infortunio che hai riportato in nazionale visto che ha avuto un problema e la curiosità che mi viene è sul sulla tua partecipazione emotiva l'inno della roma che ha fatto piacere a tanti tifosi mi piacerebbe sapere cosa ti trasmette l'inno visto che in campo fai capire di essere molto coinvolto grazie buongiorno l'inno della roma è un'immagine per la roma delle mie she Grazie a te. Che senti che ti senti quando ti senti l'anthema? Per quanto riguarda la questione che hai detto sull'injurio con la squadra nazionale, è diventata migliore. Ho scoperto con l'ancoli paine. Ho scoperto qui e l'altro. E' un giocatore che vuole sempre aiutare la squadra. Non mi lascio l'injurio in modo di aiutare la squadra. Non mi piace scoperto, ma ogni futbolista vuole che vuole con l'ancoli paine 100%. Ma sempre in football non funziona come questo. La physios, la staffa, tutti sono guardate per me. So, spero che i'lli tornare 100% con l'ancoli. E con la Roma chanta e le songs, I think since il primo giorno dà l'ancoli, l'ancoli dà l'ancoli. E come si vedete, quando sono sull'ancoli, sono molto passionato per il club e la forma che mi hanno fatto sentire. Mi hanno fatto sentire qui per molti anni. e quindi mi hanno fatto riportare le performance. E per vedere quanto farò tutto questo club. E spero che continuino. Come giocatori, bisogna i fani, per quanto possibile, per supportare. sull'ancoli dà l'ancoli, per vedere che ci siamo interessati sull'ancoli. Ma poi, ancora, funziona in due mani. Sì, dunque, per quanto riguarda l'infortunio con la nazionale, adesso le cose vanno meglio. Ho avuto qualche problema alla caviglia, qualche altro problemino. Però ecco, io sono un giocatore che vuole esserci sempre, che vuole aiutare sempre la squadra e quindi in qualche modo mette da parte anche qualche problema fisico. Ma ecco, sono un calciatore al quale non piace avere delle scuse, ma è chiaro che qualsiasi giocatore vorrebbe sempre giocare al 100% della condizione fisica, senza dei dolori, ma anche grazie all'aiuto dei fisioterapisti, di tutto lo staff medico. Spero di poter tornare al 100% il prima possibile. Quanto all'Inno della Roma, beh, mi sono innamorato di questo club dal primo giorno. Quando sono in campo credo che questo si veda bene. E anche il mio modo per dimostrare la passione per questo club, per come mi hanno fatto sentire fin dal primo giorno. È una squadra che ha investito molto su di me, quindi sta a me ripagare con le prestazioni. La speranza è che i tifosi continuino ad aiutarci e sostenerci sempre. È chiaro che noi dal canto nostro dobbiamo rispondere con le prestazioni in campo per dimostrare quanto teniamo a loro e a questo club. pastore e giovanissimo. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Volevo sapere quali difficoltà stai riscontrando nel passaggio dalla Premier League al calcio italiano e rispetto anche a quello che ti chiede Murigno di fare in campo. Sì. 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 è qualcosa che bisogna continuare a lavorare. Di allenarmi con lui in qualche circostanza e direi che è di nuovo un contesto di sfida, un contesto nel quale si impara ogni giorno e tutta la squadra si sta conoscendo ogni giorno e nel momento in cui avremo acquisito completamente quelle che sono le richieste e la filosofia del mister noi saremo una grande squadra. Fino ad allora dovremo continuare a lavorare duro, ci stiamo conoscendo sempre meglio ogni giorno, del resto, voi lo sapete meglio di me, si dice che Roma non è stata costruita in un giorno. A proposito di sfide, tu vieni dalla Premier League, non sono molti i calciatori inglesi che sono venuti a giocare in Italia, ancora meno quelli che hanno avuto successo in Italia. Ti aspettavi, a prescindere dalle difficoltà personali, un campionato anche così chiuso tatticamente, perché in Inghilterra sembra che ci si diverti di più a giocare a calcio. È questo un problema d'ambientamento che stai trovando? Parlando di sfide, c'è un po' di più che hanno deciso di venire a giocare in Italia e anche un po' di più che hanno avuto successo. C'è un po' di più che hanno trovato un po' di più, c'è un po' di più che hanno trovato un po' di più, per me, questo è un po' di più che hanno trovato un po' di più. Questo è un po' di più che hanno trovato un po' di più. Ovviamente, io sono used a l'inglista football dove ci sono molto open e molti players che hanno venuto e non sono successi, come ho detto. Ma per me è un po' di più, è un po' di più. È un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, 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 di più. Quindi, è un po' di più che, ogni giorno. Ma è qualcosa che ho avuto, non sono una persona che si riuscita da un po' di più. Quindi, sono felice. Penso che sono molte cose buone. Grazie a tutti. Il mio processo di apprendimento, di crescita, sono ancora giovane. È chiaro, vengo da un calcio più aperto, da un calcio più propositivo, più offensivo, con spazi più aperti. Però, ecco, fa parte del mio processo di crescita. Imparare a conoscere quali sono i punti deboli di certe squadre, di certi giocatori. È un processo che richiederà del tempo, ma non sono il tipo da recedere da sfide come questo. E sono sicuro che verranno in futuro cose molto belle. Volevo chiederti se sinceramente pensavi di poter perdere 6 a 1 una partita del primo girone di Conference League e se domani basta vincere, anche 1 a 0, oppure sentite di dover dimostrare qualcosa in più contro un avversario che vi ha messo così tanto in difficoltà. Volevo chiederti se che avessi la scena 6 a 1 una partita di conferenza di 6 a 1, oppure sentite di 1 a 0? Volevo chiederti se che avessi un po' di un team che ha causato così problemi? Ovviamente, in un gioco non ti aspettiamo, non ti vogliamo perdere. La forma che abbiamo perduto, per noi, è stato un gran disagio. we're better than that and we're better than what we showed that day so I think tomorrow is a perfect game it's the right step to go out and give a performance and show that we're really we're really here to fight and you know give it to them, they're a top team but we're also a top team so I'm expecting a good game tomorrow and I think if we're at our best and they're at their best I think hopefully we can get the win and a win is what we need It's evident that when you get in the game you don't expect to lose and you don't want to lose and certainly not in that way the game is a really a little bit negative tomorrow we have the opportunity to show what we really want because we're not sure that we're in the game it's an opportunity to fight to put things in place so that we're not going to deny it an excellent team and I hope a good fight and we're in thegame and tomorrow we'll play best for the wins because it is something we need Volevo chiederti se vorresti tirare il prossimo rigore quando verrà affischiata a favore della Roma, visto che ti è riproposto in campo già nel derby e soprattutto a Torino con la Juventus. Would you like to take Ice Roma's next penalty kick since you tried to take one in the derby and then especially against the Juventus in Chul? No, you know, for me as a striker you always want to score goals. I think in the heat of the moment I feel like with the confidence and winning the penalty I felt at the time I felt like I could score the penalty. But, you know, before games you know who's on the penalty and, you know, Jordan Veritutu is on the penalty, but, you know, he's someone who always scores penalties. I think, you know, on the day there was a little bit of pressure, but he always deals with the pressure. So, you know, hopefully I'll be on them soon when I'm scoring a lot of goals, but till then, you know, Jordan's our penalty taker, so he takes them. Venusati Ma, no, io in quanto attaccante vorrei sempre segnare. In quel momento sentivo di avere fiducia a Torino, avevo appena conquistato il rigore ed ero pronto a calciarlo. Ma prima delle partite sappiamo bene qual è la gerarchia dei rigoristi, tra l'altro Jordan è un rigorista straordinario, era un momento un po' particolare, c'era pressione per tutti, però ecco, io spero di tornare a fare presto dei gol e che Jordan continui a calciare i rigori bene come fa. C'era un collega Norpegese che voleva fare una domanda. Sì, Sindre Murtnett, da NRK. Hai, sono un'occhiata per l'altro, tra l'altro, tra l'altro, tra l'altro, tra l'altro, e come hai lavorato come gruppo per la giusta? Hai spiegato come un' disgrace? La migliore, la migliore, la migliore di un gioco come questo è di avere un confidamento in la squadra. Sì, la domanda è se in qualche modo la Roma è stata sorpresa nella gara di andata e in che modo si è preparata adesso per replicare a quella sconfitta che è stata per la Roma per tanti versi umilianti. Il modo migliore per prepararsi è quello di lavorare con fiducia, fiducia nella squadra, nel collettivo, come dicevo io, ma tutta la squadra domani si aspetta di giocare una buona partita, dobbiamo essere pronti, dobbiamo giocare al nostro meglio e cercare di voltare quella pagina definitivamente. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie.